Buongiorno, come andiamo? Senti, ho fatto delle riprese ieri. Potete dare la cassetta che ti ho fatto e ti dico le scuole di giovanili tutte a quelle riprese. Quanto hai dormito? Un'ora. Un'ora. Anche la sei arrivata. Ieri, sarò giovedì. Ieri sera anche il dramma. Il dramma proprio. Il fai senza imbriaca per il corso. Non voglio fare noi perché tornavo qui. Queste sono le partite oggi. Monomartro, Romaguiddici, questo tipo. Queste in verde sono provinciali. Questo è in blu maschile. Bella, Millo. Carissimo. Oh no. Bene, bene, grazie. Viaggio staccante però tutto a posto. E che ragione dei partiti? A nove in quarto più o meno. Beh, ammazza, calma. Tre ore di viaggio. Musica lirica. Eh sì, esatto. Oh, che merda. Mazzalo. Niente ballerina. Niente. È proprio registrato. Cioè... Quando c'è il nome del Zagno... Come andiamo? È solo sabato. È solo sabato. Come stanno? Benissimo. Guarda che bel tempo che c'è. Riparliamo domani. Ciao, là... Perchè giova con la camsera... Grazie a tutti 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 Don't panic, panic, don't act too manic, manic It's a short time way to ruin my day Just as soon as I'm on top of my life There you are again But don't react now, you can't go back now Don't panic, panic, don't panic, don't panic, don't panic, just look your head down Allora, prima di tutto, il flaccamento speciale da tutti voi, anche quest'anno, siete venuti numerosissimi, avete partecipato, spero che vi siate divertiti e noi ne abbiamo. Qui noi procediamo con i grandi, cattro-estate, legionari, maschile e disponeremo un totale di più di 100 partite, di più di 120 partite in tre giorni, quindi credo che la partecipare e stare a questa festa sia il modo giusto e migliore per chiudere un anno che si avessi impegnati nei nostri campionati e magari per farvi voglia il prossimo anno di cominciare con la stessa intensità con cui avete vinto quest'anno. Questa cosa l'ho studiata da vecchi giorni, ci l'hanno tutta in casa. Allora, cominciamo a quelle più piccole, nell'Alder 16. No, ecco il giro, le prime delle posizioni, sempre riascuginate, ragazzi, ma poi a sera. Allora, cominciamo a quelle più piccole, le prime delle posizioni, sempre riascuginate, ragazzi, ma poi a sera. Allora, cominciamo a quelle più piccole, le prime delle posizioni, sempre riascuginate, ragazzi, ma poi a sera. Allora, cominciamo a quelle più piccole, le prime delle posizioni, sempre riascuginate, ragazzi, ma poi a sera. Allora, cominciamo a quelle più piccole, ragazzi, 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 ragazzi. Dittorio Pettinia, ragazzi, 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 ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.